Ormai conosciamo bene Hamimont Games e Paradox, due nomi che di rado sbagliano un colpo. Surviving Mars ci porta in un city builder manageriale dove ci occuperemo di cercare di far prosperare una colonia sul suolo marziano. In base alle difficoltà impostate, il nostro compito sarà più o meno difficile. Nella prima fase dovremo occuparci di guidare solo dei droni e gestire le risorse inviateci dal pianeta Terra in modo da creare le infrastrutture necessarie per rendere abitabile la zona, fornendo ossigeno e acqua per i futuri coloni. Sarà anche indispensabile esplorare la zona in cerca di giacimenti ed anomalie, in modo da appoggiare le fondamenta per una colonia ampiamente indipendente. Quando saremo pronti, possiamo richiedere il primo gruppo di 12 coloni di prova, dei quali dovremo occuparci alla perfezione, per evitare che il fallimento ponga fine alla fiducia riposta in noi dagli investitori. In seguito vedremo arrivare altri gruppi di volontari ed anche i primi nati marziani, permettendoci un ulteriore sviluppo con le attività che richiedono personale umano per funzionare. Oltre a ricevere risorse, inizieremo l'esportazione alla madrepatria in cambio di finanziamenti. Questa dinamica degli Space Shuttle da e per Marte mi richiama all'import-export e le relazioni con le superpotenze di una partita tropico, ma solo alla lontana, avendo una buona dose di novità. Altro elemento abbastanza innovativo è la ricerca scientifica che si inserisce nelle componenti del progresso manageriale e che vedrà sempre più semplice vivere e crescere su Marte, sfruttare le sue risorse ed affrontare le sue asperità. Essa è strutturata in modo semicasuale, con alcuni punti fissi, ma altri che variano la posizione nel Tech Tree in ogni partita. Talvolta sopravvivere non è semplice. Durante la mia prima partita, quando avevo il gruppo di coloni in prova, una meteora ha colpito un'intera parte di tubi che trasportavano acqua ed ossigeno alla zona abitativa. Questo tipo di danni è molto comune ed i droni li riparano in automatico, ma in quel frangente avevo pochi minerali, così si è creata una situazione critica che ho potuto risolvere solo mandando un drone specializzato per raccogliere del metallo e portarlo nella zona interessata. Ho salvato i coloni, ma con uno scarso margine di tempo prima della loro morte per soffocamento. Un'altra componente che mi preme sottolineare è il comparto sonoro. Oltre ad una soundtrack standard, ci sono tre stazioni radio con differenti generi di musica e tre diversi speaker con relativi interventi. Amo la musica che trasmettono sul terzo canale, ma lo speaker del canale country mi piace davvero troppo, quindi mi sposto spesso tra una di queste due. Il bello di questa scelta è che aumenta molto l'immersività, talvolta vengono letti dei messaggi degli ascoltatori, con commenti sulla loro nuova vita, nostalgie del pianeta Terra e alcune eco della quotidianità marziana. Non leggendo però le stazioni radio nell'elenco di ciò che è incluso nel pacchetto base, mi viene da pensare che sia un appannaggio dei pacchetti più costosi. Senza fare particolari spoiler, vi preannuncio che l'endgame sarà molto più movimentato di quanto ci si possa aspettare, con delle catene di eventi selezionabili nelle configurazioni della partita, che generano eventi imprevedibili, pronti a trovare la situazione di quiete che a fatica abbiamo creato sul pianeta rosso. L'elemento che mi lascia perplesso è la rigiocabilità e l'eventuale sovrabbondanza dei DLC che potrebbero apparire in perfetto stile paradox. Purtroppo ho avuto modo di giocarlo circa 24 ore concentrate su due partite. In più però sappiamo che l'edizione di 75 euro prevede un season pass. Purtroppo questi non sono dati sufficienti a chiarire del tutto quanto sarà rigiocabile e quanti DLC vorranno pubblicare, però esiste già la possibilità di creare delle mod e di condividerle sul Steam Workshop. Intanto posso dirvi che il prezzo è di 40 euro per la versione base, 50 per la Digital Deluxe che ha principalmente degli elementi estetici e aggiuntivi e 75 euro per la First Colony Edition che oltre alla Digital Deluxe ha anche il Season Pass. Il gioco è comunque disponibile sia per Linux che Mac che Windows. Per questa recensione è tutto, io vi invito a mettere un mi piace, commentare e iscrivervi se per caso non lo avete già fatto. Ciao a tutti!